Ambroci che cos'è questo oasi in città, teatro in oasi? Poi possiamo domandare al signor Pino che ne saprà sicuramente qualcosa in più. 12 agosto, compagnia Azeza. Azeza chi è? Azeza? Ah, eccolo qua. Giuseppe, saluti, buongiorno. Ma noi ti conoscevamo per un attorucolo amatoriale, ti conoscevamo per un regista semiprofessionale, ma voi siete diventati un manager. Stiamo galloppando. Una rassegna è finita e un'altra c'è domanda, ho ricevuto il messaggio dalla redazione, corri a intervistare. Che mi devi dire a proposito di teatro in oasi? Dopo dieci anni siamo ritornati a Sant'Agnello, dove è nata la nostra rassegna. Ho capito. Non avendo tempo per seguirlo, tutti i sei di appuntamenti, io qual mi devo vedere secondo voi? Tutti. Ma l'alboramento poi quando conosci? Niente, ma tutto dal comune, tutto via tutto. Ho capito. E a recitare sono la compagnia Il Mosaico di Pettum, la compagnia San Marca, mamma, compagnia Azec, due lorce, e la compagnia I Pappici di Saletimo. Proprio sanno c'è la novità che anche i giovani di Azeza, i 12 anni di Sant'Agnello, ovviamente si esprime a quello che hanno fatto, la scuola di teatro. Sì, gli anni scorsi. Benissimo, auguri, complimenti. Ci vediamo domenica... Lunedì 12. Lunedì 12, compagnia Azec. San Bancrazio? No, no, tesoro non è come credi. Ah, ah. Tesoro non è come credi, già l'ho vista. Ambroggio, tu l'hai preso l'abbonamento? No, ma è ingresso libero. Ah, ingresso libero, ho capito. Ci riservate un posto in prima fine? Sì. Alla via Grazie a tutti.